Da Omero a Manzoni, passando per Virgilio e Leopardi. Si alza e si pare su classici per un anno, un ciclo di 12 incontri, uno al mese, che invita a riscoprire il gusto della letteratura degli autori del passato. Una serie di appuntamenti tra gennaio e dicembre 2023 che saranno ospitati da diversi luoghi storici della città di Pesaro, come Palazzo Ducale o Villa Caprile, ma anche Palazzo Montagnantaldi e i musei civici. Il debutto è fissato al 20 gennaio alle ore 18 alla Biblioteca Oliveriana, con l'incontro dedicato ad Omero e alla sua odissea. Sono 12 preziose occasioni per riscoprire, diciamo, da Omero a Manzoni, tante meravigliose pagine dei nostri classici. Li chiamiamo classici perché, come li definiva Calvino, appunto non hanno mai smesso di parlarci e noi non vogliamo mai smettere di ascoltare quello che hanno da dirci, che ha sempre molto a che fare con noi, proprio anche con la nostra vita davvero contemporanea. Sono 12 incontri che si svolgeranno però in sette luoghi diversi, i luoghi più preziosi della nostra città. Le pagine saranno raccontate da tre grandi studiosi, come Enrico Capodaglio, come Claudio Rondolini e come Chiara Agostinelli e saranno accompagnate anche della lettura e delle voci dei libri, da 48 voci dei libri diversi che si alterneranno in queste letture dai 18 agli 80 anni, provenienti veramente da formazioni diversissime. Questo perché, come sempre amo dire, lo studio, la bellezza non sono un dovere ma sono un diritto assolutamente per tutti. Quale sarà la chiave di lettura di questi incontri? Devo dire che l'esigenza che ci muove è quella di far incontrare alcuni classici della letteratura, non solo italiana, muovendo dalla Grecia antica, con i bisogni, l'esigenza, i sentimenti dei contemporanei. Perché il classico è qualcosa di canonico, di durevole nei secoli, ma esso nasce anche dalle paure, dai bisogni, dalle mancanze della vita concreta di ciascuno di noi. E quindi c'è un'intimità nel legame col classico che si può guadagnare e scoprire anche per la prima volta da parte di persone che magari non hanno coltivato studi umanistici o non hanno mai letto, non sono solite leggere perché i classici da secoli parlano al cuore e alla mente di donne e uomini di varie epoche e di vari continenti e quindi c'è una ragione profonda.